Altri due punti persi, svaniti nel nulla, dopo quelli col foligno e quindi non è neanche vera la favoletta che ci dicevano eh ma se giocavamo a Foggia vincevamo, hanno giocato a Foggia e non hanno vinto lo stesso. Per te il bicchiere è sempre però mezzo vuoto? Dipende dal traguardo, se il Foggia deve salvarsi il bicchiere è stracolmo e anzi bisogna stare attento a non versarne più di liquido perché è pienissimo, ha un vantaggio, ottimo vantaggio sulla quintultima, poi si sta comportando benissimo. Se invece il traguardo deve essere il quinto posto, insomma la partecipazione agli spareggi, beh siamo indietro di parecchio. Di parecchio e quindi siamo, così come siamo felicissimi di come vanno le cose in chiave salvezza, non siamo certo contenti di come vanno le cose in chiave promozione, c'è poco da dire. Ha cercato a rovinare la festa con una mancata vittoria contro una squadra che francamente non era un granché il Viareggio. Il Foggia nei primi dieci minuti ha dominato la partita, ha avuto il giusto approccio alla gara, sembrava che da un momento all'altro dovesse accadere che il Foggia passasse in vantaggio, invece è successo il contrario, dopo che già il Viareggio aveva impegnato in un volo plastico il portiere Ivanov. E' successo il contrario, il Foggia non si è disunito, ha reagito, ha capovolto il risultato e poi ancora ha fatto un altro regalo alla squadra avversaria. Vero è che il Foggia non ha avuto ancora un rigore a favore quest'anno e credo ne abbia subito i quattro, tre realizzati oltretutto. E' vero è che circa tre minuti dopo la concessione del rigore è che c'era tutto a favore del Viareggio. Non c'è stato dato il rigore a noi su Agoririn, il quale ha subito due falli nel corso della stessa azione. Non capisco perché questo signore di Aprilia, Aprilia oltre un secolo fa, non nascevano bambini, c'erano solo zanzare. E adesso nascono questi arbitri che ti rovinano, ti rovinano perché il Foggia avrebbe meritato il rigore a favore. Questo rigore non c'è stato, nella ripresa il Foggia ha giocato con tanta buona volontà, ha tentato di vincere la gara, ha tentato di tenere contenti i 7 mila e oltre tifosi accorsi allo stadio. Non c'è riuscito perché il Viareggio si è chiuso, ecco questa è la rete del pareggio di Agoririn. E' stato bravo a seguire l'azione, il cross di Insigne, da sinistra ora va ad abbracciarsi con Cangerosi. E qui approfittiamo per vedere ancora una volta la punizione sublime di Laribi che segna il 2-1. Dicevamo che il Foggia nel secondo tempo ha tentato di far su la gara, non vi è riuscito. Non vi è riuscito perché ha avuto soltanto due occasioni da rete. Sau che ha sbagliato ad angolare il tiro e Insigne che ha tirato addosso al portiere, se vogliamo. Poi c'è stato anche l'inserimento di Cortese con l'arretramento di Sau che nonostante la stanchezza ha giocato un sacco di palloni alle spalle di Cortese ma la palla non è entrata. Ora ci chiediamo, e lo vedremo poi dopo con le pagelle, c'è stato qualcuno che non ha reso come avrebbe dovuto. Il Foggia aveva dei problemi in difesa e li ha cominciati a risolvere perché lo stesso Ivanov comincia a meritarsi sempre più fiducia. Per quanto riguarda il difensore centrale, Riggione non fa rimpiangere io zia, anzi qualcosa di buono la fa vedere. Però il problema è, vedete qui l'azione di Sau che sbaglia, il problema è il terzino destro. Il terzino destro è un grosso problema per il Foggia quest'anno perché prima Candrina e poi Caccetta si sono dimostrati non all'altezza della situazione. Io fino a ieri mattina pregavo una volta al giorno affinché guarisse presto Alessandro Basta è un ragazzo molto interessante della Beretti del Foggia che sicuramente quando entrerà in prima squadra non potrà più perdere il posto ed era in origine un terzino destro, poi Novelli l'ha impiegato anche a centrocampo. Da ieri prego due volte al giorno, ma lo dico senza ironia, sto parlando seriamente perché non ho mai pregato per me stesso, sarebbe sciocco che io chiedessi al Padre Eterno qualcosa e il Padre Eterno mi risponde tu fai il fetendo e ti devo aiutare. Prego sempre per gli altri, sto pregando affinché guarisca presto questo ragazzo che si chiama Alessandro Basta che sicuramente prenderà il posto da titolare, visto che Zeeman l'ha detto chiaramente io vado avanti con questi uomini, con Caccetta non si può andare avanti perché per i suoi errori del primo tempo ha fatto partire l'azione del primo gol del Viareggio, ha causato il rigore e per gli orrori del secondo tempo questi cross fatti ad altezza dell'ombelico che sono la cosa peggiore per un attaccante, avere una palla tra il pube e l'ombelico, la palla deve arrivare o sul piede o sulla testa, non si può andare avanti così, io mi auguro che vengano presi dei provvedimenti, il Foggia deve migliorare perché può migliorare, perché questa squadra sta crescendo nonostante non arrivino i risultati casalinghi, migliora di domenica in domenica anche la qualità del gioco, è vero bisogna avere la pazienza di aspettare che gli schemi di Zeeman vengano assimilati bene da questi giocatori, è tutto vero, però bisogna anche non perdere più punti in casa, il Foggia ne ha raccolti due su nove, sono veramente poche. Foggia segna e non posso esultare perché non so se quel gol mi fa vincere la partita fino alla fine, ho capito, devo aspettare il 3-0 forse per esultare, per gridare gol anch'io, perché francamente tu vai in vantaggio e poi dopo ti raggiungono, non è il caso però di essere così... No, anzi, è l'anniversario, oggi in queste ore il Marcianisi vinceva l'anno scorso a Foggia dopo che il 30 settembre ci aveva vinto in Ravenna qua. Ecco, Caccetta mi sembrava ieri uno dei giocatori dell'anno scorso, dell'andata dell'anno scorso. Senti, piuttosto è significativo che il Foggia abbia finora conquistato le sue tre vittorie con formazioni che si trovano in bassa classifica, addirittura in giuna play-out, vuole dire Juve Stabia, Cadese e Barletta. Due squadre ha incontrato che invece si trovano nella parte, come dire, medio alta della classifica, Lucchese e Lanciano invece ha perso. Può essere significativo questo dato? C'è un Foggia che è forte con i deboli e debole con i forti? Ma ripeto, se veramente l'obiettivo è quello di mantenere la categoria come primo anno, di gettare le basi per un luminoso avvenire negli anni venturi, il Foggia sta facendo qualcosa di straordinario. Qualcosa di straordinario. Va a vincere fuori casa sulle squadre dirette concorrenti, va a vincere in casa delle dirette concorrenti, ha un vantaggio notevole dopo sette gare di campionato, ha quattro punti di vantaggio. Però sai bene che invece l'obiettivo non è la salvezza, ma puntare in alto. Se l'obiettivo è puntare in alto devono anche rinforzare la squadra, devono migliorare. Senti, un'ultima cosa. Come si fa a puntare in alto in quelle condizioni? Prima di andare in pubblicità e poi avremo una seconda parte davvero ricchissima, beh, il tuo pensiero sul popolo rosso-nero. Ieri una cornice di pubblico straordinaria, che ha lasciato intendere come davvero i tifosi del Foggia siano di categoria superiore rispetto all'appartenenza della squadra in questo momento. I tifosi sono stati all'altezza della situazione, tutta la squadra no. Direi anche che i tifosi, sì, il tifo, si è vinto, non si è vinto lo stesso, perché conta quello che succede nel campo, non quello che succede fuori. È chiaro che è bello vedere uno stadio pieno, nei limiti della capienza disponibile. Ci auguriamo tutti che contro l'Antia si possa avere un ulteriore allargamento, aumento della capienza degli spettatori. Però è anche vero che se il Foggia poi continua a non vincere, li perde, perde anche questi 7 mila. Altro che preoccupiamoci di farla 10 mila, 15 mila, li perde gli spettatori se non vince, perché la gente si diverte quando vince. Sì, ieri c'è stato l'applauso a fine partita, perché ad onor del vero la squadra ha dato l'anima in campo per poter vincere. Non è che sono stati dei disfattisti o dei fanuli, assolutamente hanno dato il massimo di se stessi.